Cosa state ragazzi? Pardon? Ci siamo ragazzi, preparatevi, stanno arrivando! Sono contento che sei venuto Sam. Ed ecco a voi i campioni regionali, i superabili rossi e raffanti del North Valley! Sia per i lanceri che per i rossi, quella di stasera è una partita cruciale. I vincitori dell'incontro si qualificheranno anche per il campionato nazionale. Austin? Austin, ascolta figliolo, questa è la tua grande occasione. Gioca bene e porta a casa la vittoria, contiamo tutti su di te, d'accordo? Andy! Ah, salve Chuck, come stai? Siamo i più forti! Ripassa una! Gioca bene e porta a casa la vittoria! What would you think of me now? So lucky, so strong, so proud Anche a noi i secondi alla fine della partita! Ai rossi serve una meta perdita! Adoro il football! Adoro il football! Così, so strong, so strong, so stupid as gold! Usi, so strong, 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 so strong! Carto, credevo di farcela, ma mi accorgo che non ci riesco. Io me ne vado. Austin, 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 Austin! Austin, Austin! Austin, Austin, Austin! Facciamo così, ti racconto come va a finire. Va bene. Austin, Austin! Scusate ragazzi. Scusate ragazzi. Scusate ragazzi. Scusate ragazzi. Beh, beh, ma che fa? Se ne vado. Che cosa? Così distruggi il tuo sogno, non ci pensi? No papà, così distruggo il tuo. Ora tocca a te, faccio nome. Austin! Austin! Il sostituto di ordine è il numero 23, Ryan Anderson. Austin! Austin, ma dove stai andando? Austin, ma che stai facendo? Quello che avrei dovuto fare molto tempo fa. Scusate ragazzi. keep you. Scusa si, ho aspettato la pioggia. non fa niente. Meta, hanno vinto i rapi rampati Sì, hanno vinto la partita Oh mamma Adoro la vita del liceo Così quel giorno vincemo la partita Ma la cosa importante è che mi hai preso il mio principe E anche...